ha dato il rinvio, attenzione si pallone in posizione regolare di Michele 1-0 Palermo così, trama adesso Ledesma, attenzione a sinistro Agliardi ancora Ledesma dentro ci sono Pandev adesso Mudingai riceve lui il pallone Mudingai spazio destro, risposta di Agliardi è importante, non deve essere preparato nella ripartenza del passale, non subire il contropiede Otto, palla dentro, mediazione Agliardi che dice Dino Manfredini che è regolare da parte di Barzagli adesso guardate quanto spazio per il Palermo quello che diceva Stefano, non aveva un istante fa allora Barzagli, conduzione del contropiede di Michele tanto spazio di Michele 2-0 Palermo il tocco per lui standard a vuoto a Mauri si fa nel pallone, c'è sempre di Michele a Mauri destro di Mauri, ritrova ancora il pallone di Michele spazio per il sinistro, Dribling torna sul destro, semplizio largo Ledesma cambia intelligentemente nella zona di Oddo prova a ripartire da Lazio Otto, palla in mezzo Fredini Agliardi fa una deviazione fuori pazzesco pazzesco i 4 gol in mezz'ora della Lazio questo è un appiglio psicologico che Dario Rossi magari avrà anche in testa Mauri buono l'aggancio Mauri Agliardi straordinario Agliardi non ci crede neanche lui Ledesma cross profondo secondo palo colpa di testa spazzampieri Barzagli destro e Agliardi su Oddo ancora una volta Ledesma Mauri cross a cercare Makiwa Agliardi in due tempi prova la sventagliata profonda ricoglio biancazzurro intanto avete visto Rocchi 1-2 e la partita si riapre col gol di Tommaso Rocchi prova il destro Mauri sponda Makiwa riesce a tenerla c'è il corridoio per Oddo destro Oddo in mezzo clamorosa occasione per il 2-2 Mauri ostacolato involontariamente da Rizzoli Zauri Makiwa sponda opportunità Stendardo si salva Agliardi